Sono dieci anni che ci prendiamo cura della ponale, diciamo che per i primi nove è tutto andato alla perfezione perché i lavori riuscivamo a farli, riuscivamo a coprire il costo, poi nell'ultimo periodo c'è stata questa flessione sostenuta nei contributi che il Comune Riva ci concedeva tutti gli anni, per cui quest'anno siamo di fatto inadempienti perché abbiamo dovuto interrompere a settembre le manutenzioni che facevamo da un decennio, questo appunto perché ci sono venuti mancare i fondi necessari per pagare il manutentore perché il Comune ha ridotto il contributo. In dieci anni enti pubblici di vario tipo, cioè APT c'è dato 2.000 euro in dieci anni, quindi 200 euro all'anno grossomodo, mediamente. Stessa cosa il Comune di Ledero, sempre 2.000 euro in dieci anni, 2.000 euro in dieci anni mi sembra anche l'Unione del Commercio e Turismo e 1.000 euro la Cassa Rurale, ma i primi anni, quindi diciamo che mediamente gli altri enti hanno, cioè zero la provincia, gli altri enti hanno contribuito per un 1% o 2%, solo Riva del Garda effettivamente si è preso carico, si è fatto carico dai costi della manutenzione e di questo noi chiaramente ringraziamo il Comune. Cosa ne pensi dell'istituzione di un biglietto d'ingresso per coprire i costi di manutenzione della strada? Credo che sia la cosa più sbagliata da fare in questo momento perché caricare, a parte i costi di esercizionale che probabilmente supererebbero di gran lunga l'incasso e dopo ci sarebbe una grossa quota di evasione perché effettivamente come poi fa pagare l'entrata in un sentiero. Oltre a questo ci sarebbero poi i problemi giuridici perché se noi facciamo pagare il transito probabilmente dobbiamo garantire una sicurezza che su un sentiero libero e aperto è assolutamente, non può essere garantita perché la Pornale sappiamo benissimo che ha dei problemi geologici, perlomeno teorici. Di fatto nei dieci anni non ha mai dato problemi però. Cosa chiedete agli enti pubblici, in particolar modo al Comune di Riva del Garda? Come Riva non possiamo chiedere molto di più di quello che sta facendo. Io credo che invece bisognerebbe che gli altri comuni o gli altri enti, cioè APT che di fatto vende la nostra Pornale, la provincia di Trento che di fatto non si è mai interessata della Pornale. I comuni limitrofi perché diciamo che la nuova amministrazione di Liedro ha una sensibilità diversa e effettivamente sta facendo qualcosa. Gli altri comuni, Arco e Torbole che probabilmente anche quelli fanno parte del contesto dell'abusa, non ne abbiamo mai sentiti. Io credo che se tutti gli enti di questo, tutti gli enti che gravitano sulla Pornale o che dalla Pornale tragano qualche beneficio sicuro, si facessero carico di una piccola parte, perché in realtà stiamo parlando di un costo medio di manutenzione di 30.000 euro all'anno. 30.000 euro all'anno diviso 5 enti o 6 enti sono 5-6.000 euro all'anno, che per un bilancio comunale 5-6.000 euro sono lo 0,000 e non dovrebbe essere un problema, tanto meno per la provincia. E quindi è proprio una questione politica, di volontà politica, di non impegnarsi in questo caso, perché di fatto noi la Pornale penso che sia dopo il Lungolago, o forse al pari del Lungolago, una delle più belle offerte turistiche della zona. Ecco, posto che non è giusto dal mio punto di vista che noi ci smarchiamo completamente dall'ente pubblico, perché l'ente pubblico deve farsi carico della manutenzione per statuto, cioè deve farsi carico della manutenzione di questo bene che è sovracomunale assoluto. e noi comunque, visto che ci sono questi problemi di liquidità, di possibilità di fare dei lavori, proprio da ieri abbiamo cominciato a organizzarci per fare una raccolta fondi. Quindi stiamo aprendo sul sito, abbiamo aperto il conto Paypal per poter fare pagamenti online e adesso stiamo facendo tutti i vari collegamenti, link necessari sul sito della Pornale che ricordo è www.pornale.eu. Ecco, e lì sul sito o tramite il sito, come adesso faremo anche pubblicità probabilmente sul giornale, chiediamo a tutti coloro che, se la sentono ovviamente, che lo desiderano, di fare una piccola donazione, di adottare un piccolo pezzo di Pornale a seconda dell'importo. Ecco, noi di tutti questi versamenti, di tutti questi introiti daremo conto e il nome di tutti coloro che avranno versato anche solo un euro sul conto corrente del comitato Giacomo Cis verranno messi sulle bacheche che attualmente sono lungo Pornale. Speriamoci a noi molti, noi ci prefiggiamo appunto l'autosufficienza economica che però, ecco, non vorrei mai raggiungere perché è giusto per conto mio e è assolutamente giusto che l'ente pubblico continui a farsi carico perché non può essere solamente, ancora una volta, lasciato tutto a carico del privato o del volontariato o del buon cuore. Ci vuole un intervento pubblico, cospicuo, sostanzioso e impegnato.